A chiuso in musica l'anno scolastico delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Portoferraio. Quattro giorni di concerti e saggi con le tre classi ad indirizzo musicale che hanno coinvolto alunni e genitori in una kermesse terminata giovedì pomeriggio con il concerto dei giovani pianisti portoferraiesi. Martedì sera i 60 studenti dell'indirizzo musicale si sono esibiti in un concerto di musica d'insieme e orchestra assistiti dai loro insegnanti di strumento Elvira Pinazzi per pianoforte, Alessandro Bigio chitarra, Sara Capanna flauto e Stefano Lunardi violino coordinati da Chiara Gagliozzi. Giovedì pomeriggio i 15 allievi di pianoforte si sono esibiti in un articolato saggio di fine anno come solisti e in duetti. Ho sentito ringraziamento a Teletirreno per la sua presenza a questo nostro saggio e anche per il sostegno che ha dato come supporto ad alcune attività scolastiche, in particolare la nostra classe di pianoforte. I ragazzi hanno svolto un percorso in cui hanno acquisito alcuni elementi di tecnica strumentale attraverso sia studi tecnici tipici della didattica pianistica dalla seconda metà del secolo fino all'era contemporanea, con autori di varie zone partendo dall'est Europa fino alla nostra nazione. Hanno anche affrontato brani di epoche diverse, di compositori diversi come Beethoven, Bach, Mozart e si sono adoperati con impegno abbastanza continuo in diversi esperimenti tecnici e interpretativi soprattutto. Grazie. Grazie. Grazie.